Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Dead Space Remake e siamo all'ultimo capitolo. Siamo appena scesi dalla navetta e siamo su Aegis 7, lì c'è Nicole. Prima di fare qualsiasi altra cosa, facciamo il giro da questa parte, ci andiamo a recuperare un nodo. Esattamente in questo punto qui. Ovviamente, come al solito, aprite tutto e prendete tutto. Torniamo indietro. Attiviamo. E aspettiamo che arrivi il marchio. Poi andiamo di qua. Armadietti. Qui recuperiamo un Texlog. Qui un Audiolog. E qui un nodo. Dopodiché possiamo andare un pochino avanti e ci rivediamo a breve. Ah, c'è anche un oggetto qui. E volendo potete anche salvare. Ah, giusto per completezza. La batteria la trovate qui dentro. Aprite, lì c'è la batteria. La portate fuori. E ovviamente la installate lì. E qui potrete andare ad attivare il marchio. Quindi una volta superato il primo blocco, diciamo. Andiamo di qua. Andiamo a recuperare un nodo. Attenzione. Rilevato rischio biologico sconosciuto. Quarantena in corso. Rimozione quarantena. Si mancano, Isaac. Una volta finita la quarantena, quindi, apriamo la porta. Qui ci sarà un nodo e ce lo prendiamo. Ovviamente saccheggiamo anche gli armadietti. E andiamo avanti un altro pochino. Tra un po' dovremo recuperare qualche altro nodo. Ok, arrivati diciamo nel secondo blocco. Quindi siamo esattamente qui. Dobbiamo ripristinare l'energia. Il marchio è rimasto lì dentro. Quindi appena arriviamo andiamo qua a sinistra. E apriamo questo. Qui ci saranno tre nodi. Recuperiamo questi tre nodi. Recuperiamo tutta la roba che c'è da prendere. Ripristiniamo l'energia. E ci vediamo a breve. Fate attenzione alle due schifezze che usciranno laggiù. Una lì e una lì. State attenti. Tornati in questa stanza, un brutto vi attaccherà. Uccidetelo per acquisire un altro nodo. Poi dopo andate avanti. Quindi attivate questo. E il marchio andrà avanti. Una volta arrivati qui, cioè quando dovremo mettere il marchio sul piedistallo. Qui verremo attaccati da un tentacolo schifoso. Noi veniamo qui dietro. Troveremo delle munizioni. E poi facciamo esplodere questo. Dopodiché. Quello. Aspettate che ora arriva un po' di gente. Ok. Raccattiamo. Andiamo di qua. E facciamo esplodere anche questo. E qui prendiamo un text log. Tacci tua, me l'ho scordata. Ok. Portate il marchio sul piedistallo e ci vediamo dopo, giovani. Ok. Una volta arrivati a questo punto, quindi dopo aver scoperto la verità, usciamo da qui. Armadietto. Avanti. La navetta. Posso ancora farcela prima che lei parte? Poi andiamo di qua. Vabbè che per forza non è che possiamo andare da un'altra parte in realtà. Mi raccomando, saccheggiate tutto. Entrate qui dentro e qui ci sarà un nodo. L'ultimo. Poi aprite tutti quanti gli armadietti. E adesso andiamo a vedere tutti i collezionabili del capitolo 12. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sono esattamente dieci. Sono questi qui. Fatto questo, andate a... Ah, queste sono le missioni secondarie che, vabbè, non le abbiamo ovviamente completate tutte perché andranno fatte nel New Game Plus. Fatto questo, completate il gioco e poi siete pronti per fare il New Game Plus. E comunque avete preso tutti i potenziamenti, tutti i nodi che ci sono e tutti i collezionabili presenti al momento nella nostra prima run. Poi nella seconda run potrete fare le scelte differenti e andare a completare anche quelle secondarie che non avete fatto in questa prima run. Prima di salutarci vi faccio vedere che per sbloccare il trofeo relativo ai potenziamenti delle armi dovrete entrare qui nel terminale. Adesso sto uscendo un attimo, ok, entrate qui nel terminale e avrete, se non avete mai fatto potenziamenti, avrete tutti i punti esclamativi. O comunque, se non avete aperto tutte le armi, noterete dei punti esclamativi sulle rispettive icone. Voi aprite quelle armi, quindi fate così e entrate nel menu e una volta aperte tutte vi sbloccherà il trofeo. Quindi mi raccomando fate così, altrimenti non ve lo sblocca. Detto questo, giovini, per andare a platinare il gioco lo faremo in New Game Plus alla difficoltà massima e andremo a fare tutte quelle cose che ci mancano. In questa run andrò anche ad ottenere il trofeo, un'unica arma, ho utilizzato solo la lama al plasma in maniera tale che poi dopo andremo a recuperarci tutti i trofei relativi alle varie uccisioni con le varie armi e andremo a potenziarle tutte a finire il gioco a difficoltà massima. Detto questo, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella, commentare, condividere, lasciare un bel like. Grazie mille per averci seguito e alla prossima!